La Sir Safriti con Alde Perugia da spettacolo al Palabarton sconfigge con un perentorio 3-0 di Bo Valencia, in camera la sedicesima vittoria stagionale in campionato e resta al comando della classifica di Superlega. Si spelono le mani i 3.200 e più saliti a Pian di Massiano, lo fanno soddisfatti perché i bloc Devix hanno fatto davvero una prestazione eccellente, concreta e determinata, fatta di qualità nei fondamentali e di pressione costante. Il rotondo successo contro, Bo Valencia consente ai blocchi Devix di tenere il comando della Superlega sempre con una lunghezza di vantaggio su Trento, 4 su Civita Nova e 6 su Modena.